Harry Potterfish, il grande mago. Ma anche nelle scuole sotto il mare si insegna la magia? E sembra proprio di sì. E il piccolo pesciolino Harry ha preparato un numero bellissimo, ma riuscirà a presentarlo al pubblico? Ascoltate e scopritelo. Giù nelle profondità del mare, in mezzo all'oceano, c'era una mamma pesce che chiamava suo figlio. Harry, Harry, dove ti sei cacciato? Lui era nascosto dietro la tenda di alghe della sua cameretta e se la rideva sotto i baffi. Eh eh, non mi troverà mai. Che bello scherzo. Harry, vieni subito qui, altrimenti... Oh oh, sembra proprio arrabbiata. Meglio non esagerare. Il pesciolino nuotò fuori dal suo nascondiglio. Eccomi, eccomi, arrivo. Si può sapere dov'eri sparito? Harry incrociò le pinne. I maghi non svelano mai i loro segreti. La mamma alzò gli occhi al cielo e scosse la testa. Oh, ancora con questa storia. Ma, 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 io mi sto esercitando per lo spettacolo di fine anno. Oh no, non pensarci nemmeno. Non farai la figura dello sciocco davanti a tutta la scuola marina con qualche trucchetto di magia. E poi quest'anno alla recita dovresti essere tu il protagonista, il grande capodoglio, l'ha detto la maestra. Amici bambini, ma voi lo sapete cos'è un capodoglio? È un pesce molto molto grande, quasi come una balena. Ma torniamo alla nostra storia. Harry smise di ascoltarla. Immaginava già di essere su quel palco e di stupire il pubblico con i suoi numeri magici. Pensa mamma, si alza al sipario e tutti mi vedono. E poi, puff, magia! Sparisco e in un attimo riappaio enorme! La mamma scosse la testa di nuovo e sbuffò. Mamma, ma non capisci? Farò un trucco per cui sembrerò grande come un capodoglio. Mamma, ma secondo te non sono bravo a fare le magie, vero? Ma no, non dico questo. Solo che tutti si aspetteranno di vedere te e i tuoi compagni recitare, ballare, cantare. Nel programma non c'è nessun numero di magia. Appunto! Harry era di nuovo pieno di entusiasmo. Chiederò alla maestra di aggiungerlo. Pensa che sorpresa e che successo! Si mise a nuotare velocissimo intorno alla mamma. Sarà divertente, vedrai. Adesso ti mostro qualche trucco. Harry, dai! E va bene. Harry si avvolse in un mantello, si mise in testa un buffo cilindro e poi sono pronto! Mosse veloce le pinne e fece spuntare dal mantello un mazzo di coralli che prima non esisteva. Poi fece una piruetta, sollevò il cappello e tirò fuori una lunghissima collana di conchiglie. La mamma era stupita. Non si aspettava tanta abilità. Oh, sei proprio bravo! Come hai fatto? Segreto! Sorrise soddisfatto, sicuro di averla convinta delle sue capacità. invece non era così. Però, figlio mio, togliti dalla testa di fare uno di questi trucchetti allo spettacolo. Ma, mamma! Ah, niente storie, si farà come dice la maestra. Sono stata chiara? Ma, ma, non è giusto. Harry si voltò per andarsene. Dove vai? Da Jack. Lui mi aiuterà con il numero. Raggiunse una zona con molte rocce piene di buchi, una specie di castello di pietra. Jack! Jack! Sei in casa? Da dentro si sentì una voce. Sono qui! Harry entrò e vide che il suo amico cavalluccio marino stava facendo merenda con una fetta di torta al corallo. Ehi, ciao! Che succede? Ne vuoi un pezzo? Harry si sedette e scosse la testa. No, no, grazie. Proprio non ho fame. Jack lo guardò. Ma tu sei triste? Come mai? Oh, mia mamma, sai, la recita. E quindi? E quindi niente. Le ho raccontato la mia idea per il numero di magia. Le ho anche fatto vedere qualche trucco. Lei mi ha applaudito, ma poi ha detto che erano mesi che la maestra stava preparando un'altra cosa e bla e bla e bla e il capodoglio. Insomma, non vuole che lo faccia. Harry era mogio mogio. Dai, non ci pensare. Magari una soluzione si trova. Invece vuoi vedere una vera magia? Oh, da quando sei diventato anche tu mago? Non sono bravo come te, ma guarda. Vedi questa fetta di torta? Pocus pocus abbracadà. questa torta sparirà. Sparancò la bocca in un sol boccone inghiottì il dolce. E io che ci avevo creduto. Con la bocca ancora piena anche Jack iniziò a ridere sputando briciole in ogni direzione. Beh, non sarò un vero mago, ma potrei avere un futuro come comico. Oh, di sicuro. Grazie, avevo bisogno di farmi due risate. Eh, a cosa servono gli amici se no? Senti, a proposito dello spettacolo, a che punto sei con i preparativi? Quello che vuoi fare tu dico, non quella roba noiosa della maestra. Il sorriso di Harry sparì. Insomma, mica tanto bene. Cioè, il problema è che mi mancano degli oggetti e non so dove trovarli. Che genere di oggetti? Degli specchi. Jack si grattò la testa. Harry provò a spiegare meglio. Se i miei calcoli sono giusti, se mettiamo tre grandi specchi ai lati del palco e poi mettiamo le luci e le facciamo riflettere, il pubblico avrà l'illusione di vedermi enorme. Davvero? Beh, sì, in teoria è così. E in pratica? In pratica anche, credo. Ma finché non lo provo per davvero... No, sono sicuro. Mi mancano solo gli oggetti. Ah beh, quanto a questo io so dove puoi trovare quello che ti serve. Harry spalancò gli occhi per la meraviglia. Sul serio? Ma certo, dal vecchio Bax, il polpo rigattiere. Harry era già sulla soglia pronto ad uscire. Dai allora andiamo, dove possiamo trovarlo? Jack ci penso su. Ecco, questo potrebbe essere un problema. In che senso? Ehm, hai presente la distesa di anemoni selvatiche, dove finisce la città e inizia deserto? E di solito lui è da quelle parti... Cosa? No, Jack! No, 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 non possiamo andare fin là. È troppo pericoloso. Tutti dicono che ci sono dei mostri. È vero, però lui è l'unico che potrebbe aiutarti. Harry ispirò profondamente. Il cuore gli martellava nel petto al solo pensiero di quei luoghi proibiti. Non sono sicuro che sia una buona idea, però, 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 facciamolo. Andiamo a cercare Bax il polpo. I due nuotarono a lungo finché giunsero nei pressi della distesa di anemoni selvatiche. Il silenzio in quel posto era inquietante. Le luci delle ultime abitazioni erano ormai lontane e i due piccoli amici procedevano lenti nella penombra. Correnti fredde li sfioravano, come se invisibili pinne di pesci, fantasma, li toccassero e li spingessero indietro. C-C-Jack, questo posto non mi piace per niente. Sei sicuro che Bax sia qui? C-Jack, chissà perché, sembrava non avere paura. Si guardava intorno come se fosse in giro a fare shopping. Un poco più avanti, il vecchio polpo stava rovistando tra gli anemoni. Sbirciò fra i propri tentacoli fluttuanti e vide un cavalluccio marino e un pesciolino dall'aria spaventata. Non amava farsi vedere, però era anche molto curioso. Chi mi cerca? Sbraitò uscendo dal suo nascondiglio. Harry e Jack saltarono indietro per lo spavento. Bax aveva davvero un aspetto inquietante. Una lunga cicatrice lo segnava in volto e due degli otto tentacoli erano più corti degli altri. No, 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 non ci faccia del male. Harry si rannicchiò dietro Jack per nascondersi. Jack però adesso era spaventato anche lui e si spostò dietro Harry e poi di nuovo Harry dietro Jack e ancora Jack dietro Harry. Alla fine stettero uno vicino all'altro, gli occhi sbarrati e pronti alla fuga. Bax li squadrò. Chi siete? Cosa volete da me? Ecco, noi sappiamo che lei colleziona molti oggetti e allora... Oh, datevi una mossa! Parlate svelti, ho da fare io! Harry era impietrito, non riusciva a distogliere lo sguardo dai tentacoli monkey. Jack se ne accorse e continuò a spiegare. Signor Bax, vede, al mio amico Harry, ecco, sì, a lui servirebbero degli specchi per fare un numero di magia. Sa, è proprio forte come mago, eh? Sorrise al polpo che però continuò a fissarli impassibile. Insomma, ci hanno detto che forse avremmo potuto trovarli da lei, eh? Il polpo Bax si irrigidì e li guardò di traverso. Sputò sui tentacoli, li strofinò energicamente e si avvicinò con aria minacciosa ai due pesciolini. Si voltarono e fecero per nuotare via, quando il polpo con un colpo di tentacoli si mise davanti a loro. Eh, e adesso dove andate? I due si bloccarono. Fu di nuovo Jack a rispondere. Eh, boh, si è fatto tardi. Bax lo scrutò, gli giro intorno, avvicinò la faccia alla sua e lo annusò. Poi si mise a ridere. Ah ah ah, non sei bravo per niente a raccontare bugie, ragazzo. Jack abbozzò un sorriso, ma rimase immobile. Dai su, non fate quelle facce, non vi mangio mica. I due amici non osavano muovere un muscolo. Allora Bax si allontanò un pochino, fece una giravolta e mostrò un magnifico sorriso rassicurante. O almeno, quella doveva essere la sua intenzione. Peccato però che avesse un dente sì e uno no, e con la bocca allargata la cicatrice dava al suo volto un'espressione terribile. Temo di avervi spaventato, vero? Eh, è che non sono abituato a ricevere visite. Ho perso l'abitudine di parlare con la gente. Anzi, a dire il vero, io la gente non la sopporto proprio. Voi però mi siete simpatici. Strizzò l'occhio e diede loro un colpetto sulla testa. E così vi servono degli specchi? A quella domanda Harry si riscosse. Aveva cercato Bax apposta? Sì, 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 signore, ho in mente uno spettacolo di magia per la festa di fine anno e allora... Adesso non avevano più paura del polpo. Era un po' scontroso, ma in realtà era buono. Tutto lo spavento di prima era svanito. Guardò Bax dritto negli occhi. Lei mi procuri tre grandi specchi e io le regalerò una vera magia. Il giorno della recita, la palestra della scuola marina era piena di pesci di tutti i tipi che andavano avanti e indietro. Insegnanti e alunni si davano un gran da fare per allestire le scenografie, rifinire i costumi e ripassare le battute. Harry invece era fermo sulla porta in attesa. Ma dove saranno? Avrebbero già dovuto essere qui. In quell'istante la porta si aprì e Jack e Bax entrarono. Harry diede le indicazioni. Gli specchi furono posizionati ai lati del palcoscenico. Il vecchio Bax sistemò e direzionò anche le luci, muovendone tre o quattro insieme grazie ai tentacoli. In pochi minuti fu tutto pronto. Nessuno aveva badato a loro. Ognuno era indaffarato per i fatti propri. Partì la musica. Il sipario si aprì. Harry era in piedi al centro del palco. Ascoltatemi, oh gente! Era il segnale. Jack, nascosto dietro le quinte, attivò la macchina e il fumo avvolse Harry. Signore e signori, questa sera vi stupirò con un numero di magia che vi lascerà senza fiato. Il pubblico ascoltava, curioso. Siete venuti qui per vedere la rappresentazione della creazione degli oceani, giusto? Giusto, rispose qualcuno tra il pubblico. E ditemi, chi ha creato gli oceani all'inizio dei tempi? Questa volta il pubblico rispose in coro. Il grande capodoglio! E cosa mi direste se ora io su questo palco vi mostrassi il grande capodoglio? Harry chiuse gli occhi, inspirò e con voce tonante ordinò. Buio! La sala piombò nel buio più assoluto. Nell'oscurità si sentì la voce di Harry pronunciare la formula magica. Speculo et lux magnum sum. Jack accese di colpo le luci posizionate sopra gli specchi e dal pubblico si alzò un'ovazione. Oh! È diventato gigante! Pazzesco! Ma come ha fatto? È enorme! Che bello! Davanti ai loro occhi, grazie agli specchi e alle luci, Harry si era trasformato davvero in un enorme capodoglio. Tutti si alzarono in piedi e applaudirono. La mamma aveva le lacrime agli occhi per la commozione. Ma ce l'ha fatta? Il mio pesciolino ce l'ha fatta? Bax fischiava e batteva i tentacoli. Faceva più rumore lui di tutto il pubblico messo assieme. Anche la maestra era stupefatta. Entrò in scena, chiese il silenzio e domandò. Come ti chiami, grande mago? Harry non se lo fece ripetere. Sono il mago Harry, Harry Potter Fish. Il suo sogno si era realizzato. Vi è piaciuta questa storia? Seguiteci e non dimenticate di iscrivervi al canale. A presto!